Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Monete di Valore. Beh ragazzi, ho qui con me il folder di una moneta da 500 lire in argento che va a commemorare il 500 inario della nascita di Michelangelo Borarroti. Quindi è un folder che contiene una moneta delle vecchie lire, però una moneta commemorativa, quindi una moneta che non ha mai circolato e è stata creata appositamente per i collezionisti dell'epoca. C'è qualcosa che mi tormenta per quello che riguarda questa moneta che riguarda la tiratura e l'anno di coniazione. Adesso vi faccio vedere come è fatta la moneta, parliamo anche del suo valore e vi faccio capire anche cos'è che mi sta tormentando da un po'. Allora, la moneta si presenta in argento, è la classica moneta da 500 lire d'argento, quindi diciamo che ha le stesse caratteristiche della più famosa 500 lire caravelle. Quindi abbiamo titolo d'argento 835 per 1000, peso 11 grammi, una moneta normalissima, quindi per quello che riguarda le 500 lire della Repubblica Italiana. Sul giro, nel giro, troviamo la scritta Michelangelo Borarroti, nel centro troviamo la raffigurazione di una Sibilla Delfica, poi sulla sinistra 1475 che è l'anno di nascita di Michelangelo Borarroti e 1564 sul lato destro che invece è l'anno di morte di Michelangelo Borarroti. Valore nominale L500 che corrisponde a 500 lire, la piccola lettera R indica che la moneta è stata coniata dalla Zecca di Roma. Ruotiamo la moneta dall'altro verso, troviamo il busto di Michelangelo Borarroti, la scritta nel giro Repubblica Italiana, firma dell'incisore sotto il busto e poi 1975 che è l'anno di connessione di questa moneta, o almeno dovrebbe esserlo. Perché ho questo dubbio? Se io vado a prendere i maggiori cataloghi italiani, che sarebbero, almeno a mio parere, Il Gigante e Montenegro, questa moneta è stata coniata, almeno secondo i cataloghi, in 268.280 esemplari nel 1975. Io ho questo folder ufficiale che invece riporta che la tiratura è di poco superiore, quindi come se fosse stata fatta cifra tonda, 269.000 unità, e poi c'è scritto DPR 30 ottobre 1980. Questo significa che questo folder non può essere stato fatto nel 1975, perché altrimenti sarebbe stata riportata anche qui la stessa data. Mentre se qui è stato riportato 30 ottobre 1980, vuol dire che questo folder è uscito almeno un giorno dopo l'uscita del DPR. Quindi questo folder è stato fatto almeno nel 1980. Perché quindi la moneta riporta come millesimo di coni un 1975, è stata realmente coniata nel 1975, oppure, come dice una pagina di Wikipedia, la moneta è stata coniata nel 1980, per poi essere classificata come 1975. Io in questi anni non ero ancora nato, quindi non collezionavo, logicamente, e non ho una risposta certa. Non ho avuto modo, quindi, di parlare con collezionisti più vecchi, scusate se vi do del vecchi, più anziani, diciamo, e quindi non so effettivamente la storia di questa moneta. Dubito fortemente che i cataloghi abbiano sbagliato, perché comunque i cataloghi esistono da tantissimi anni. Se ci fosse stato un errore che riguarda il millesimo di conio, o la tiratura nel corso degli anni sarebbe stata sicuramente corretta, invece così non è, quindi a me resta fortemente questo dubbio. Qual è l'anno di coniezione di questa moneta? Per quale motivo c'è questa incongruenza tra 1975 e 1980? Bene, se qualcuno colleziona queste monete da più tempo di me, o magari ha delle informazioni in più, gentilmente vi chiedo di darmi qualche delucidazione, quindi magari usate i commenti per scrivermi quale potrebbe essere il motivo se ne siete conoscenza, o magari se avete delle ipotesi in merito, cioè pensate che la soluzione a questo piccolo enigma possa essere quella, magari esponete la vostra teoria e cerchiamo un attimino di capire insieme quale potrebbe essere il motivo di questa incongruenza. Spero di essermi spiegato chiaramente. Per quello che riguarda poi il folder della moneta, potete vedere che logicamente, essendo vecchia, il folder ha iniziato, ah, non è che ha iniziato, ha perso la colla, la colla si è ingiallita, e purtroppo il tutto è stato trasferito anche nel resto del folder. Quello che riguarda la moneta, invece, c'è una leggera ossidazione qui, che sarebbe poi una patina, che diciamo che quando la moneta si imbrunisce tutto, cioè patina tutta, cioè questa parte scura va a distendersi, si distende su tutta la moneta, la moneta diventa davvero carina. Quando invece è solo un inizio, diciamo che per alcuni sembra bruttina da vedere, ma invece è proprio una caratteristica dell'argento e solitamente le monete che vanno a fare una bella patina complessiva sono molto molto più belle da vedere e per alcuni acquisiscono anche valore. Se volessi farla patinare velocemente, mi basterebbe toglierla da questa plastichina e l'ossigeno farebbe tutto il soccorso, quindi la moneta un po' alla volta andrebbe a patinarsi in maniera naturale. Ci vorranno degli anni, logicamente. Bene, ragazzi, non mi resta che parlare del valore di questa moneta. Allora, così come la vedete voi nel folder, al momento ha una quotazione di mercato che uscilla tra i 10-12 euro. Diciamo che 10 euro si riesce a trovare facilmente. La moneta, logicamente, è in Fior di Conio perché essendo sigillata capirai che non è mai stata maneggiata. Però si riescono a trovare anche delle monete che magari sono state tolte dal loro folder, sono state anche maneggiate. Qualcuna non è più quindi Fior di Conio perché magari ha qualche segno di usura anche dello stesso collezionista che magari ama tenere le monete in mano senza guanti e poi magari un domani decide di venderlo oppure è capitato tante volte che il collezionista viene a mancare e gli eredi combinano di tutto e di più con le monete trovate proprio perché non hanno idea di come si tratti una moneta. In quel caso, se la moneta magari è stata maneggiata e questo si dovesse notare, potremmo dire che la moneta non è più in Fior di Conio e in quel caso le quotazioni di mercato scenderebbero. Però sono comunque delle discese contenute. Perché? Perché essendo monete in argento hanno comunque già un loro valore di base. Ad esempio ad oggi questa moneta per il solo argento contenuto vale 6 euro. Essendo una moneta commemorativa diciamo che il valore di mercato potrebbe essere 7-8 euro. Mentre ti ricordo ancora una volta in folder tra i 10 e i 12 euro. Bene ragazzi, non mi resta che invitarvi a cliccare mi piace, condividere il video se il video è stato di vostro gradimento e fatemi sapere nei commenti se avete qualche idea per quello che riguarda la tiratura e l'anno di coniezione di questa moneta. Quindi se riuscite a risolvere il mio enigma. Ve ne sarei eternamente grato. Condividete il video e iscrivetevi al canale Monete di Valore. Ciao!